Buongiorno a tutti, mio nome è Dario Catalano, sono l'applicazione manager e lavoro in Agrate, l'applicazione manager del SPC5-6 MCU core basato su PowerPC Core. E oggi vorrei presentarvi al SPC5 Studio, quindi cosa è un SPC5 Studio? Un secondo, andando un po' più veloce. SPC5 Studio è un modo di semplificare la vita di un design software. È basato su Eclipse, che è un framework comune per molti strumenti come questo. E quello che chiamo SPC5 Studio è un ambiente di sviluppo di applicazione di sviluppo di applicazione di sviluppo. SPC5 Studio è praticamente configurato il tuo codice visualmente. usando un plugin Eclipse, e lo chiamiamo SPC5 Studio componenti. La forma in cui configuriamo il codice è usando FreeMarker. FreeMarker è un strumento come Perl, che traslata da un testo a un altro. E questo è il codice. Quindi, SPC5 Studio è basato su un compilio come Hitec, che è derivato da GNU-GCC, che è molto complianto. E poi c'è un debuggiero chiamato PLS. E poi ci sono i software componenti che sono Eclipse, Pagin, con software visualmente configurabile. E poi ci sono toni di bordi di applicazione, bordi di discovery, dove puoi giocare. Quindi, come realizzare la vostra creatività? Il motivo principale è realizzare la vostra creatività. Realizzare la vostra creatività significa che non hai bisogno di pensare sui dettagli non necessari. Quindi, quando non hai bisogno di leggere il manuale, ho ottenuto il mio obiettivo. Inoltre, se hai bisogno di leggere il field, la masca, dove spiegare le cose e l'addressione, significa che ho scoperto. Quindi, in che modo possiamo arrivare a questo risultato, evitando di fare ogni volta la stessa cosa. Stiamo utilizzando wizards. Il termine wizards significa che qualcosa che ti guida da step A a step B senza sbagliare le dettagli stupide. le dettagli stupide. Devo mostrare queste foto. Quindi, puoi leggere facilmente quando sto parlando. le dettagli stupide. Abbiamo creato il manuale visuale cliccabile. Il manuale di referenza. Quindi, quando puoi vedere il pin out di un chip, puoi lo vedere sul screen e è cliccabile e configurabile. Quando puoi vedere il diagramma di clock tree nel manuale di referenza, puoi vedere sul screen che è cliccabile. sto facendo più veloce per il purpose. Quindi, puoi vedere il punto di vista di questo. Per esempio, l'applicazione wizard. L'applicazione wizard ti ha chiesto una semplice una applicazione reale che puoi usare. Diamo che con il marketing con solo 6 cliccati puoi fare qualcosa sul board. questo non è l'applicazione ma è una stupide applicazione che puoi mostrare come usare i nostri strumenti e come usare i nostri micro. Ma poi c'è la forma di configurare ogni periferia. Quindi, quando non devi leggere il manuale per impostare il CPUH di un SPI significa che ho il punto. Quindi, tutto è che sia visuale senza leggere il manuale. I continui ripetendo questo. Quindi, tutte le altre cose puoi trovare sul sito web. Ma... Quindi, il MCO mode e il clock tree wizard. Questo significa che puoi andare con il mouse e cambiare visivamente ogni dettaglio del clock tree e vedete live cambiamenti nel diagramma. Quindi, se puoi andare nel multiplexer e cambiare l'input per il sys clock, vedete la linea cambiare e il valore nel sys clock cambiare. e, se vedete nel riferimento vedete vedete la scuola quindi, se un cliente vedete capire cosa è e questo è basato tutto sull'input l'input dell'input poi, as soon as you set up a PLL parameter right click on the PLL you can see live changes in the output and you are not to get bored about bit field and about bit shift and about bit mask and then you can select the MCU mode and understand how the the core how fast is as soon as you change the configuration and it goes without saying that as soon as you save and generate you will generate the C code in order to do what you asked him to do and, as I said ok the designer was not so able to make a multiplexer so in the reference manual it is only a box but actually the functional point is that it is a multiplexer and so we place there a multiplexer for example then there is the pin wizard pin wizard the idea is almost the same you can see a TQFP or a BGA you can right you can click on the right side where there is a bar with all the peripherals in a functional way if you click on a peripheral you can see all the blue board representing all the input and all the outputs board that could go to that peripheral but then if you open the tree of the peripheral you can select one single line of that peripheral and you can see how many boards could be connected to that line of that peripheral and then right click on the board you can select the alternate function in order to connect that function to the outside world without getting bored about reading the manual then once you save and generate you are doing doing two things the first is that you automatically configured the software without writing in the CUL register let me say the other good point is that you could save you can save an excel sheet and you can give this excel sheet to the guy right 10 meters from you that is making the board for this so there will be one unique source of information for software and for the hardware guy and this is I think quite important I'm I'm a software designer since 20 years one of the most important things that a lot of people knows a lot of things that are different so I'm doing an output but someone is putting an output outside with the transceiver of the can this tool can be used as well to place the chip in the custom board so if if you would like to know where you have to put the transceiver of the can you can simply select the can peripheral and understand where the can is outside the chip so you can easily understand and where to play things on the board so one unique tool in order to set up your automotive application not just only software so simply this is this written what I said you can even easily change your footprint for example someone told you that you could use a bigger device but then you realize that you need less pins than expected you can simply change from a drop down menu a smaller device and see if all the pins are still there outside without losing one second simply changing the device and regenerating the code if there is there will be a constraint check if everything is good all your settings are already there and already working in a matter of seconds and it could be too boring modifying a bit mask instead of this and basically that's all in the sense that now what it is here? is simply the roadmap now we are almost at 4.0 what you can see at the boot is the clock tree demo and we release the clock tree what we did up to now is the pin map the application wizard and what we will do is a lot of customers ask us that since they don't know a lot of software they don't want to see an operating system so what we did is that you can use software driver with operating system software driver without operating system basically and then you can download the specific studio and ST website there is a forum where most of the problem has already been solved you can ask and there are some engineers that will help you in understanding how to set up things and basically that's all is a property that is that will help you a lot of people where you go home they don't want to Grazie a tutti.